Musica Sabato 14 e domenica 15 settembre ritorna al centro fiere di Villa Potenza di Macerata la 33esima Mostra Mercato Nazionale dell'Elettronica e Mercatino dell'Usato organizzata ancora una volta dalle CB Club maceratese qui con noi il Vice Presidente Domenico Maccari con cui parliamo di come sarà strutturata questa edizione del 2019 Sì, siamo giunti alla 33esima edizione con grande soddisfazione e ogni anno stiamo cercando innovazione, stiamo cercando novità sia a livello merceologico che di carattere strutturale quest'anno abbiamo inserito la novità del primo salone dell'auto elettrica che completerà gli spazi espositivi cioè fermo restando lo spazio dedicato al mercatino dell'usato lo spazio dedicato all'elettronica abbiamo aggiunto un settore dedicato all'auto elettrica con relativo convegno del sabato mattino subito dopo l'apertura E poi tra le novità anche una dimostrazione con drone Sì, nel pomeriggio abbiamo, oltre ad avere molti stand dei droni abbiamo anche il seminario curato dal RDN Red Squad Drone Network e che ci impegnerà tutto il pomeriggio con vari collegamenti a livello streaming Vogliamo ricordare poi gli orari di apertura di questa manifestazione? Per gli orari di apertura sono confermati quelli degli anni precedenti Il sabato l'apertura alle 9.30 con chiusura alle 20 La domenica invece il radio di apertura è 09.19 Dopo il taglio del nastro di sabato mattina intorno alle ore 10 circa inizierà un interessante convegno incentrato sulla mobilità sostenibile Ne parliamo con Mario Di Iorio responsabile comunicazione per questo evento Sì, quest'anno come tutti gli anni cerchiamo di dare sempre qualcosa in più con attenzione al territorio e alle sue particolarità Si parla sempre più di sostenibilità, si parla di ecologia, si parla di risparmio energetico e non poteva mancare il salone dedicato appunto alla mobilità elettrica mobilità sostenibile Quest'anno, anzi un'altra particolarità e novità non solo la riconferma dell'Unicam, l'Università di Camerino ma al suo fianco avremo anche la Contram si parlerà di elettrico, avremo anche la possibilità di vedere da vicino di toccare con mano proprio il primo mezzo elettrico urbano che la Contram ha messo in cantiere non solo il mezzo elettrico, non solo il convegno ma anche una particolarità, se così vogliamo chiamarla un mezzo snodato che sarà posto all'ingresso e fungerà da biglietteria i convegni non finiscono con il sabato mattina, proseguono anche con il pomeriggio si parlerà di droni, di protezione civile e di questo ne parleranno in modo più approfondito i prossimi colleghi Federico Mariani è coordinatore regionale dell'associazione Rescue Drones Network che si occupa di che cosa? Rescue Drones Network è la prima rete italiana di pronto impiego di aeromobili a pilotaggio remoto ovvero droni, a supporto delle attività di soccorso sia ordinario che per medio e macro emergenze di fatti le aree di intervento dell'associazione sono la ricerca di persone scomparse di incidenti stradali e ferroviari, monitoraggio del dissesto idrogeologico e monitoraggio di incendi ad oggi l'associazione conta circa 250 soci con una flotta operativa di 500 droni e fanno parte del network disaster manager, piloti di droni, piloti di aerei commerciali e militari appartenenti alle forze dell'ordine, forze militari e vigili del fuoco e topografi, medici e altre figure professionali di notevole importanza Nelle Marche abbiamo nata questa associazione quindi nell'ottobre dell'anno scorso e abbiamo lavorato con diverse esercitazioni di protezione civile in particolare vorrei ringraziare il CB Club maceratese che grazie al loro supporto lavoriamo molto sinergeticamente in questo progetto di fatti abbiamo fatto diverse esercitazioni soprattutto nel territorio del cratere del telemoto in particolare a Castel Sant'Angelo sul Nera e anche a campi in provincia di Norcia abbiamo fatto ricerche di persone scomparse sia in macerie che non e nel corso di questa mostra a mercato dedicherete un particolare incontro all'uso di questi droni? Sì esattamente faremo un convegno in cui testeremo per la prima volta il progetto LIFE LIFE sarebbe Live from Emergency che non è altro che una diretta streaming di immagini da drone al Dipartimento nazionale di protezione civile e dei vigili del fuoco durante il convegno saremo in collegamento simultaneamente con diverse regioni d'Italia ad esempio con il Veneto, il Lazio, la Sardegna, la Sicilia in cui appunto faremo delle operazioni simultanee di operazioni di droni a questo poi effettueremo il triage da remoto che non è altro che un sistema di amplificazione sonore da drone in cui potremo comunicare con il paziente, insomma con la vittima che ha bisogno di soccorso e così i medici possono effettuare da remoto un triage per valutare lo stato di salute delle persone da soccorrere Successivamente testeremo anche l'aerofotogrammetria d'emergenza che non è altro che una restituzione bidimensionale e tridimensionale di tutta l'area interessata delle ricerche o comunque di qualsiasi evento sia in atto da poter inoltrare direttamente alle istituzioni e a tutti i centri di comando e controllo Con tutto questo discorso si collega anche l'attività della protezione civile regionale qui con noi c'è Fabio Maccari, delegato appunto settore droni del Cibiclub maceratese e referente per quanto riguarda la provincia di Macerata delle organizzazioni di volontariato con te parliamo appunto di questo aspetto Sì, abbiamo da un paio d'anni già in associazione stiamo portando avanti questo settore dei droni Nello specifico la provincia e la regione sembrano anche molto interessate ai nostri progetti Gli ambiti in cui il drone può essere utile nell'emergenza, in protezione civile sono molteplici, alcuni li ha già elencati Federico Comunque parliamo sia della ricerca di persone disperse parliamo della fotogrammetria d'emergenza Come ha detto Federico, è molto importante poteva essere importante negli eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio qualche anno fa per restituire un'immagine dettagliata dei comuni poco raggiungibili a piedi o poco raggiungibili con i mezzi di trasporto tradizionali Inoltre, una cosa molto importante che stiamo portando avanti è un supporto ai vicini del fuoco nello spegnimento degli incendi Le nostre attrezzature in questo momento sono discrete, sono importanti Disponiamo in questo momento di droni tradizionali ma anche di droni professionali che possono essere utili in molteplici eventi Nello specifico un drone con antermocamera e con camera zoom in grado di identificare e cercare persone o comunque punti caldi nel caso dello spegnimento degli incendi, della bonifica degli incendi anche da una distanza considerevole E poi nella giornata di domenica terrete un corso per operatore radio di protezione civile Esatto, organizzato dalla Regione Marche Il corso si svolgerà in due step Il mattino faremo la parte teorica mentre il pomeriggio ci sarà la parte pratica E a questo corso parteciperanno dai 50 ai 100 volontari di protezione civile della Regione Marche che vogliono approfondire questo settore Cosa faremo? Cercheremo di dare le basi della comunicazione radio a volontari che in questo momento non sanno o non hanno ancora avuto modo di approfondire questo aspetto che comunque è un aspetto veramente importante uno degli aspetti principali nella gestione dell'emergenza è proprio la comunicazione Il corso è rivolto ai volontari di protezione civile della Regione Marche ma sono benvenuti anche tutti quelli che vogliono avvicinarsi a questo mondo del volontariato della protezione civile Quindi vi aspettiamo in fiera il 14 e il 15 settembre Grazie a tutti